Anzi, la mano chi riconoscerebbe? Emiliano Frediani. Che cosa ti sei fatto ai capelli? Quell'idea mi chiede alla mia moglie perché è tutto merito suo. Io direi anche l'abbigliamento. Secondo me ha fatto un corto. Allora entriamo subito dentro perché Roberto vai. La prima volta che hai conosciuto Emiliano Frediani a primo impatto, come ti si è presentato? Dove eravate? Se vado, se la memoria mi tradisce, eravamo un bettone, questo sono sicuro. Arrivò accompagnato da Loris Gervasi, dico, ci prendi? Ero seduto e la dico com'è però. Lo sai, un pantaloncino a quadri, una camicia a fiore. Sono con chi ero, io cazzo. Oggi viviamo il giardiniere, dico, non amo con questo. Un giardiniere che ha fermato la bellezza di 13 gol.